Sono benissimo, come ho detto prima, mi sento più forte di prima perché ho avuto un infortunio difficile, però meno male che tutto è passato e adesso mi sento veramente molto forte, senza dolore. Il staff medico di Santos, insieme con il staff medico di Napoli, hanno fatto un grandissimo lavoro e voglio approfittare l'opportunità per ringraziarlo, perché loro sono stati bravissimi con me. Mi sento veramente molto bene, mi sento bene fisicamente, mi sento bene tecnicamente perché quando abbiamo un infortunio tutti credono che siamo fermi, però no, ci alleniamo molto, mi sono allenato tantissimo in Brasile, non mi sono fermato e mi sono rientrato molto bene.